Cosa la poesia? Perché non cerca di mettersi in contatto con noi? Perché non me l'hai detto prima? Te lo sto dicendo adesso! Ma tu hai ammazzato qualcuno? Non pensi di dovermi delle spiegazioni? Per quale motivo ti sei fatto coinvolgere in quel giro bastardo? Che cavolo sei? Crediamo che sia stata l'ultima fuga. Non è una scelta. Tua madre è stata repita. Grazie per la visione!